Ciao, sono qui solo per spiegarvi una cosa. Allora, questa borsa è una borsa molto bella, molto particolare, molto semplice da fare, molto contenitiva anche, però è molto semplice. E vi mostro anche la forma. È un trapezio che però si piega nel lembo più alto, così, e si aggancia. Quindi l'agganci, qui c'è il manico e qui c'è la tracolla. La puoi portare in due modalità, o a mano completamente, o a braccio, oppure con la tracolla. Aperta a tutta un'altra valenza, volendo, tracolla la puoi portare anche così. Assolutamente, è bella comunque, è proprio un secchiello. Però chiusa, a me piace moltissimo. Veramente, io l'ho provata indossata, è meravigliosa. Continuo a mettere un abbraccio davanti. Allora, questa qua. Vi farò un video su questa borsa. Si può fare con tutti i tessuti. Io me le immagino quest'autunno, con il velluto a coste, oppure con il tessuto delle giacche. Quella lana particolare, lavorata, molto bella. Puoi fare le tasche dappertutto, puoi mettere le cerniere dove vuoi. Tasche, io le metto sempre dappertutto, le tasche mi piacciono da matti, quindi... E questa è una borsa in giro strappazzona, come dico io, e te la metti per andare dove vuoi. A fare una gita, una scampagnata, te la porti in città se ti metti il tacco. Te la metti dove vuoi. Non sei d'accordo? Ciao! Ciao!